Silenzio in studio per favore, scena 24 prima, motore, partito, azione. Vabbè, vado a mettermi le mucane. Sono un'apparizione in bagno. Posso andare dietro un'apparizione? No, non puoi! Cosa deve fare in bagno? Scusa, ma Cesare come fa a alzarsi? Ci cammina su una faccia? Oh, Cesare! Cesare deve stare di qua! Ma no, ma scivola di me, dai! Cesare, scivola! Che non sei scivolato! Eh, ma andiamo alla base! Ciupini e cadaverici! Ok! Ciupini e cadaverici, la madonna! Tira giù le mani! Madonna, come ti svegli! Bene! Andiamo in bagno? Andiamo in bagno, ragazzi! Tutti in bagno! Tutti in bagno! Adesso! Non ha aggiunto cosa a cagare, quindi va bene! È andata bene! È andata bene, tutti in bagno! Se fa così! Eeeeh! Sì! Aaaaah! Tua mamma! Andiamo al letto, dai! Coltadino! Ma che schifo! Il solito caffè è anacquato! Un razze! Ahahahah! Tantra! 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 Siete in corrente e in piedi. Siete in corrente e in piedi. Arrivederci, la contessa. Mamma mia, piango anche io. Stai zitto, sto saprendo. Sto piangendo anche io. Fede, stai pronto? Per abbastanza. Io sì. Stretching. Mamma mia, che ce l'ho. Vai! Siamo due poveracci, mi sa benissimo. Io non avevo la minima intenzione di rimanere in città adesso. Io non ero mai arrivare. Un'altra? Fammi anche quella dopo. Ma la fa al culo. Dai, dai, ti prego. Guarda di qua, Max. Fate di sì con la testa. Ora fate di no. Vabbè. No, io faccio sì. Ridete. Cioè, un momento fa ero le lacrime del salito. Eh sì, ce l'hai fatta. Eh sì, ce l'hai fatta. Tu fingevi poi, eh. Ce l'hai fatta, con la città, ce l'ho fatta. Va bene, dai, pronti. Dai, svenzio. Sì. Sì. Da un colpetto. Ah, tanto qui. Stop. C'è dei tempi di reazione. No, no, no. Perché? È un po' più legno. Facciamo vedere l'audio del cosa che esce. È già uscito. È già uscito, cazzo. Bene, bene. Ah no, devo bere. Questo? L'ho fatta tutto bene. Se lo versa, fa un po' cinema importante. Se lo versa e non si capisce bene perché non l'hai bevuto. Fulvio, ma secondo te l'ha già dato da mangiare al canarino? Che cazzo che faccio? È un pescuro. Tutto backstage questo qui. Se tra l'altro è bello trattare il cucchiaino, ma non ho lo zucchero. Quindi che cazzo era giro a fare il caffè? Ah, lo preoccupate. No, io non mi... Cioè, questa è la donna della mia mascherina. Scusate, non ti bevi a dire un po'. Eh, ancora costino o no? No. Mettiti davanti allo specchio. Non ti vedo. Dove sei? E con la carotofa? E con la carotofa? L'ho presa e non te la lascio. Tanto lui sarà più interessato alla carotofa. Vieni la carotofa. Vai. Il cappello. Ma dove? Elena? Eh? Come si accende? Con l'accendino. è bellissimo se non è sai cosa c'è l'unità di fare io se si leva qua sopra 5 allora Max più a destra destra ancora destra e poi lei lei l'ha visto quando mi ha seguito in casina perché lei l'ha visto seguirmi in cantina e mi ha anche sentita mentre ho urlato mentre lui ha urlato di me mentre qualcun altro faceva qualcos'altro e mentre il cielo spende e poi lei lo sa perché lei l'ha visto seguirmi dai zitto sono disperato ma non è che cosa si è anche arrolato marmelerato ma sparato ma cipollato ma io non lo so davo un po' di cipollina così piango io a piangere un po' di cipollina noi di milettino siamo due parti di fame sei tu un palco di fame mangiare cipolli che si fa adesso? non vuole rimanere la nonna dai baci mano no freq no freq no freq Grazie per la visione!